... Hanno divelto porte, finestre e poi sono entrati devastando ogni cosa. Un colpo messo a segno in pieno giorno a San Cipriano. Un'amanda che ha messo a suo quadro ogni stanza, ogni angolo. Un disastro, un disastro, cioè... Un disastro. Un altro non ho da dire, purtroppo... Più che altro sono i ricordi familiari di una volta, anche quelli sono spariti. I ladri hanno atteso che il proprietario fosse uscito per andare a lavoro. Un furto studiato nei minimi dettagli, a lanciare l'allarme, sono stati alcuni passanti. Sono arrivato a casa su chiamata di un passante che mi diceva guarda che c'è una macchina strana fuori casa tua. Sono partito subito da lavoro, dove lavoro, e sono arrivato qua ma ormai ho trovato tutto quanto sotto sopra. Hanno fatto irruzioni in questa casa, ma anche nell'abitazione della nonna che è morta una settimana fa. Hanno rubato diversi monili in oro, un orologio, soldi incontanti. Dentro hanno lasciato un disastro, senza nessun rispetto, per nulla e niente. Quando il proprietario è stato avvertito di movimenti sospetti vicino alla sua abitazione, ha subito allertato una sua amica. Al momento non c'era nessuno, ho chiamato una mia amica e gli ho detto vai a dare un'occhiata. Lei è arrivata e li ha fatti scappare. Lei li ha fatti scappare e ormai avevano, penso, già fatto il loro lavoro, il loro operato. Sono passati 25 minuti dalla chiamata all'arrivo della giovane, 25 minuti in cui i ladri hanno razziato tutto sul posto per le indagini, i carabinieri.